cari amici buonasera eccoci nuovamente insieme allora stasera tantissime novità hanno promulgato il famosissimo decreto decreto rilancio decreto rilancio bene allora mi sono letto tutte 436 le pagine non penso che non lo abbia fatto nessuno in italia non so se l'abbia fatto qualche ministro ci siamo letti tutto il decreto non ve lo commentiamo perché perché il decreto si basa come è stato fatto fino adesso su 55 milioni miliardi triliardi cifre enormi che sembrerebbe debbano andare agli italiani sembrerebbe ma anche il lo scorso decreto ci dava soldi a tutti cassa integrazione come sapete non nessuno ha visto un euro quindi mi al di da di queste fantastiche questi fantastici libri dei sogni ci leggiamo due tre quattro articoli così riuscirete a comprendere qual è la mentalità cosa viene occultato dietro questo iper decreto che sanerà tutti i mali dell'italia allora vediamo insieme due tre quattro cose allora innanzitutto notizia eclatante ma ma peggio di così non poteva essere ce la leggiamo insieme eccola proroga dello stato emergenziale sono prorogati dal 31 luglio altri sei mesi l'italia è per legge e per legge in emergenza con uno stato di emergenza che consente le leggi speciali fino a dicembre 2020 fino a dicembre 2020 saremo governati con una legge emergenziale quindi con la sospensione di una valanga di diritti ricordiamocelo questa è la prima notizia che nessuno ha riportato che nessuno ha riportato ed è la drammaticità di questo decreto grazie a tutti